Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere dei regali che mi sono arrivati che mi sono arrivati per la mia comunale bene sì, perché ho fatto la comunale quest'anno però ho scelto i più belli allora, iniziamo col primo il primo è questo qui con l'iniziale del mio nome scusate ma la luce con l'iniziale del mio nome perché il mio nome è Rachele però mi chiamo Anchele quindi il secondo è questo Joypad bellissimo che fra poco mi vado a unificare sì, è molto dettagliato, guardate c'è molte cose quindi, poi abbiamo due giochi per Xbox One ebbene sì, abbiamo due giochi per Xbox One iniziamo dal primo ovvero Assassin's Creed la sfida in destino mi sembra allora, è pagato 25€ molto bello, molto carino perché puoi giocare online e dopo andremo a vedere andremo a vedere, cioè non li proviamo però vediamo come sono fatti se sono sporchi se sono sporchi eccetera poi abbiamo come tutti vogliono GTA 5 questo è ordinato perché è quello là originale ed è ordinato quindi questi sono i miei regali passiamo all'ultimo che c'è raga è una cosa fighissima aspettate che la tengo attaccata al computer attaccato tutto il maschio tempo se riuscirò a prenderla ok ebbene sì il fottutissimo non so come si chiama mouse del Londra non potete capire non potete capire la mia felicità quando mi è arrivato possiamo passiamo non è l'ultimo questo passiamo a questo era per l'ultimo passiamo proprio all'ultimo ebbene sì Windows 10 ovvero dove sto registrando ok ragazzi il video si conclude qui io spero che questo video vi sia venuto 10 like per il prossimo video bella ragazzi ciao 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 ciao